Il mondo del lavoro e dell'industria ne parliamo oggi, prima di tutto perché ne parlano anche i giornali quotidiani, come vedrete, come parlano purtroppo del maxi scandalo, della maxi eurotangentopoli, di cui purtroppo abbiamo dovuto raccontare in questi giorni che mettono ancora in difficoltà non solo la classe politica europea, ma anche l'Italia, perché ci sono delle evidenze, vedete che oggi i giornali titolano sulle carte e anche sui soldi che sono passate come mazzette dal Qatar, si presume, anche se il Qatar, precisiamo, ha detto che con questa storia non c'entra niente, però è difficile crederlo rispetto a quanto hanno riscontrato gli investigatori del Belgio, questo è sicuramente uno dei temi principali, come lo è la grande vittoria dell'Argentina, perché no, lo sport in questi giorni è protagonista con il mondiale proprio in quel paese di cui stavamo parlando per altri poco edificanti motivi e quindi la grande galoppata di Lionel Messi, ma ci sono anche tantissime notizie locali che riguardano Prato, per esempio quello che sta succedendo non solo nel mondo del lavoro ma anche nel mondo della politica, ne parliamo qui oggi, a prima di tutto. Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Grazie a tutti! Buongiorno, bentornati a prima di tutto la rassegna stampa ragionata di TV Prato, ogni mattina andiamo in onda alle 7.30 e poi potete anche vederci in replica qui sul 75 oppure ascoltare il podcast su Spotify. Oggi risaliamo la china, facciamo un po' il contrario di quello che facciamo spesso, partiamo dalle notizie locali per poi arrampicarci su quelle nazionali e internazionali, vedrete che queste notizie si parlano, a partire dal fatto vediamo qui la prima pagina del terreno Firenze-Prato-Empoli che ieri è arrivato appunto il ministro, il ministro delle infrastrutture del MIT Matteo Salvini, leader leghista che è stato come uno tsunami sulla politica fiorentina soprattutto, diciamolo, perché ha espresso diversi dubbi, i dubbi di cui parla appunto il terreno, dubbi sul Franchi, ovvero sul nuovo stadio di Firenze, non ci sono i soldi per farlo, questo è il virgolettato che Gasperoni ci appunto restituisce, segnali incoraggianti su alcune delle opere infrastrutturali, ma anche appunto scrive Gasperoni, contrapposizioni che rischiano di far traballare progetti blindati, generando uno scontro connotato pure appunto da venature politiche destinato a complicare le partite fiorentine, alla fine il bilancio dell'incontro tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella e Matteo Salvini alla prima visita in Toscana dopo la nomina al ministro delle infrastrutture dei trasporti è agrodolce, direi più agro che dolce perché i nì di Salvini sono diversi, guardate ve li faccio vedere anche sugli altri giornali locali, in particolare qui siamo appunto su il giornale Repubblica Firenze, Salvini no scudo verde, nì per le trambie e sulla moschea sì allo sfratto, avete già capito qual è l'antifona, in pratica Salvini critica l'amministrazione di sinistra che in questi anni, in questi decenni oserei dire ha condotto le politiche anche economiche e infrastrutturali della Toscana e dice che anche sul PNRR non ci sono abbastanza soldi per la Toscana e sarebbe colpa, secondo il ministro appunto dei litigi all'interno del Partito Democratico, avremo modo di esplorare questa vicenda, vediamo anche il Corriere Fiorentino che in fascia alta, appunto titola proprio su questo, Salvini a Firenze un siluro e tantini, si ripete questa locuzione, insomma a metà fra il no e la possibilità di farlo, quindi gelata di Matteo Salvini sulle infrastrutture toscane, il Vice Premier alla sua prima visita a Firenze da ministro si dice a favore dello sviluppo di tutte le opere per diversi motivi, appunto frena sulla realizzazione delle più strategiche per la città, fatta eccezione per la TAV, su cui spingo e continuerò sempre a spingere, dice Salvini, sui aeroporti di Pisa e Firenze, anche qui è positivo perché lo sviluppo di entrambi gli scali regionali è importante, il resto è una fiera di nì e di forse ostacoli economici, di soldi che non ci sono, di cittadini da ascoltare, inevitabile una certa tensione già prima dell'incontro con il sindaco Dario Nardella e questo è il punto, in pratica le opere che sarebbero a rischio secondo Salvini sono soprattutto le tramvie e lo scudo verde che si dovrebbe costruire attorno alla città di Firenze, quello che assomiglia molto all'area C di Milano per capirci, Salvini dice la gente che lavora non può essere penalizzata in questo modo, non può comprarsi una macchina nuova solo perché ci sono delle nuove regole, va bene aiutare l'ambiente ma dobbiamo trovare dei modi migliori, questo è il succo di quanto il Ministro ha detto ieri, poi ha partecipato a una cena con anche Dario Nardella a Palazzo Vecchio in onore dell'Unicef, forse erano seduti vicini ma c'è da scommettere che si siano parlati poche volte, il titolo principale del Corriere Fiorentino accenna i treni all'anno nero dei pendolari, per oltre metà di questi treni la causa è un guasto nell'infrastruttura ferroviaria, è un importantissimo approfondimento di Matteo Lignelli che ci racconta che oltre un treno regionale su 10 ogni giorno arriva puntualmente in ritardo, con punte del 14% su alcune tratte, è incredibile, cose che sappiamo ma che vedere scritte, riportate, analizzate come deve fare chi sia nell'informazione che appunto nelle analisi dei dati affronta le questioni dovrebbe fare sempre, cioè cercare di capire quali sono i veri problemi partendo dai numeri, magari questo lo chiediamo anche poi alla ospite che oggi è molto gradita per affrontare questo tema, come vi avevo promesso il tema del lavoro, continuiamo questa settimana a scandagliarlo, in particolare avremo con noi Margherita Ceretelli che è Presidente dei Giovani di Confindustria Toscana Nord ed è un piacere di nuovo ospitarla con noi, vedrete che saranno diversi i temi di cui parleremo, però restiamo sul articolo di Lignelli, tra le peggiori tratte ovviamente secondo i dati di Trenitalia c'è appunto dal 1 gennaio al 10 dicembre 2022 la tirrenica Nord, ossia quella sulla costa e la linea Aretina, le cause spesso sono guasti alle infrastrutture e torniamo di nuovo a parlare, tra l'altro chiedo alla regia se è possibile mostrare la pagina che Matteo Lignelli sul Corriere Fiorentino ha preparato alla pagina di apertura, la pagina 2 del Corriere Fiorentino di oggi che ci mostra anche con dei grafici come vedete l'odissia quotidiana dei pendolari in ritardo, oltre un treno su 10, vi invito veramente ad approfondire questo tema che si lega strettamente a quello che abbiamo appena detto. Ebbene andiamo ancora avanti, invece visto che siamo sul Corriere Fiorentino con quello che è successo anche rispetto alla moschea, moschea lite sullo sfratto tra i fratelli proprietari, l'imam serve il rinvio, lo sfratto della moschea di Piazza dei Cionpi, si parla ancora di Firenze, continua a far discutere anche all'interno della società proprietaria del fondo con i due fratelli soci che si dividono e intanto l'imam chiede ancora tempo, serve una proroga, appunto è il virgolettato, siamo di fronte ad una dinamica classica anche dell'Occidente, la lite fra fratelli, c'è il famoso detto sulle società i cui soci debbano essere dispari e non più di due, quindi solamente uno è certamente meglio. Qua a centro pagina invece vediamo il fatto che ieri ha conosciuto, diciamo così, ha divulgato il mondo della cultura, Fiorentina soprattutto, perché vedete la foto dei grandissimi degli Who, appunto Roger Daltry e Pete Townsend che saranno a Firenze Rocks nel 2023 a giugno il maggio incontra gli Who, appunto Edoardo Semola ci racconta come gli Who siano i secondi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks e in particolare il 17 giugno dell'anno che verrà si esibiranno alla Visarno Arena assieme all'orchestra del maggio musicale. Ancora avanti con i giornali locali, con la promessa fatta oggi di partire per l'appunto dal territorio per poi invece diramarci su su per le notizie nazionali, in particolare Prato, raccolta differenziata, cambia tutto in 23 strade, questo è il Tirreno, è un articolo di Maria Lardara, che cosa succede? Che dal 19 dicembre ci saranno nuovi orari per chi abita in vie senza locali, in centro appunto aperti la sera, in centro dove arriveranno i cestini per separare la carta dalla plastica, questa è una notizia importante soprattutto per il decoro della città a fianco di Spalla, vediamo la notizia su stazioni ecologiche nuove che ha comunicato sempre ieri Alia, l'operatore che accoglierà, abbiamo avuto il Presidente Ciolini recentemente ospite, anche tutte le altre società per la formazione della Multi Utility con la fine di quest'anno, c'è la firma dal notaio proprio a cavallo tra le feste natalizie e quindi questa è la notizia che affronta, come verrete dopo anche la Nazione ci arriviamo subito, però ancora restiamo sul Tirreno, cibo e botti per arrotondare, dipendente di un'azienda logistica trasportava mozzarella di bufala e fuochi, è stato denunciato con 550 kg di petardi e questa è la notizia di cronaca che ci racconta il Tirreno, c'è anche un'intervista su appunto la dignità del lavoratore che deve essere sempre al centro e l'intervista appunto è a Massimiliano Brezzo che è il segretario della Filtem di Prato Pistoia e appunto domani durante il congresso uscirà dalla categoria Brezzo che abbiamo imparato a conoscere come sindacalista perché non si può più ricandidare a capo appunto di questa organizzazione. Per finire col Tirreno di Prato, TC Bisenzio, una notizia di sport nell'Olimpo del tennis appunto, questa è una notizia che ci fa molto piacere, la volevamo sottolineare, vedrete che avremo modo poi di tornare allo sport con il calcio come vi avevo promesso, però qua il Presidente parla di un sogno che si avvera, si parla della squadra appunto di tennis che va, sbarca in A1 insomma nell'Olimpo del tennis ed è giusto sottolineare questo importantissimo risultato. Passiamo alla Nazione come promesso, ancora qui in alto, Tessili Ciginelli cambia dopo 17 anni, come vi raccontavo Brezzo nelle ditte più flessibilità, rifiuti due ecocentri e nuovi orari, il titolo principale dell'edizione coordinata da Leonardo Biagiotti, ancora appunto queste sono le pagine interne che raccontano come smaltire i rifiuti sarà più semplice e sempre sulla Nazione di Prato il fatto che appunto in centro la raccolta corta si svolgerà la mattina, cambiano gli orari in 23 strade, vi invito come facciamo sempre qui in questa trasmissione ad approfondire queste notizie ovviamente con l'acquisto dei giornali in edicola perché troverete magari anche quello che accade rispetto alla vostra casa, alla vostra abitazione o comunque per capire quali sono anche i modi e i metodi e i risultati delle tariffe che pagate ogni giorno, qua si parla ovviamente di Prato. Imprese è più facile avere il credito, è benissimo, questa è una notizia importante che approfondiremo con Ceretelli fra poco, ovvero finanziamenti per il caro energia, cosa succede? Che c'è stato un accordo fra Confindustria e Toscana Nord e il Banco BPM appunto per agevolare la transizione ecologica del distritto, una cosa molto importante, leggo qualche riga, mano tesa alle imprese, Confindustria, Toscana Nord e Banco BPM hanno siglato un accordo di partnership a sostegno delle aziende associate e impegnate a raggiungere obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico alle pese con il caro energia, un sostegno che si concretizza in liquidità e accesso al credito agevolato per chi ha intenzione di investire in innovazione. Sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno, ancora qui le pagine interne della Nazione, ma passerei a questo punto alle prime pagine dei giornali nazionali perché vi voglio introdurre a quelle che sono le notizie che vi dicevo precedentemente, partiamo direi dalla Repubblica, Qatargate, ecco le carte, che cosa succede? Che quelle ONG di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ONG, organizzazioni non governative, questa è la sigla, condotte da Panzeri, un deputato, un eurodeputato, ex eurodeputato della sinistra, ha fatto tutta la trafila da IDS al Partito Democratico, poi passando all'articolo 1, questa è una cosa importante perché c'è una questione ovviamente anche morale, della sinistra che si è caratterizzata negli ultimi 50 anni, in realtà si è caratterizzata in negativo, però oggi abbiamo ancora la riprova purtroppo di quello che è successo, ebbene quell'ONG servono a far girare i soldi, chi lo dice? Lo dice Francesco Giorgi, marito dell'ormai ex Vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili, la ragazza greca che avrete visto in diverse foto in questi giorni sui giornali, che nel provvedimento che ha portato ai fermi del Qatargate, si legge essere protagonista di questa vicenda che avremo tra poco modo anche di approfondire, ma ci sono altre notizie interessanti su Repubblica in particolare, ve ne voglio far vedere tre, la prima questa, io cacciata da Gardaland per le mie foto sexy, ma con 1000 Euro non vivo, così mi arrangio. Cosa succede? Che Ilaria, questa ragazza di 25 anni, aspirante modella ed ex dipendente di Gardaland, ex perché è stata licenziata dopo aver messo le sue foto su Holyfans, il sito che sicuramente conoscerete e che da qualche tempo è un punto di riferimento nel mondo anche dell'Eros, insomma lavorava come hostess a Gardaland, ma è stata licenziata, è una cosa che fa molto discutere, che ha a che fare con il costume, con la società e con i tempi che cambiano. L'altra notizia che vi voglio far vedere è quella sull'Iran, processi farsa, non ce ne dimentichiamo mai, come non ci dimentichiamo della guerra in Ucraina, processi farsa del giudice Boia, inutile difenderti, ti condanno a morte appunto, a Teheran lo chiamano il giudice delle impiccagioni, una fama oscura, ci racconta Gabriella Colarusso di questa fama oscura di cui si torna a discutere e a parlare con terrore nei giorni in cui la magistratura iraniana esegue le prime condanni a morte per le proteste, purtroppo alcune anche pubbliche per impiccagione, ve lo ricordo ci sono questi condannati nelle gru, le scene veramente da medioevo, dobbiamo dirlo, incredibili, anche questo è un articolo che vi invito ad approfondire. Qua invece arriviamo alla notizia che riguarda direttamente una crescita politica importante di un partito che fino a qualche anno fa era ai decimali, perché questa è la verità, che però oggi si prepara non solo a governare il paese e lo sta facendo da primo partito del centro-destra, ma addirittura sostanzialmente è un partito che si prepara anche a festeggiare i suoi dieci anni, lo fa in questo articolo di Repubblica, vediamo il racconto della celebrazione della nascita del partito, lo fa ed è importante sottolinearlo anche tramite il lavoro di un pratese, visto che trasmettiamo da Prato, non solo un toscano, ma un pratese che guida il partito, è responsabile organizzativo del partito e lo è da tempo ed è protagonista di questa crescita e per raccontarci come sarà questa festa abbiamo chiesto all'onorevole Giovanni Donzelli che in questa città vive, ora gli chiederemo se ci viene più spesso o meno spesso ultimamente, immagino che sia più spesso a Roma, però chiediamo proprio a lui se è in collegamento telefonico, chiedo al nostro regista di metterlo in collegamento, chiediamo a lui semmai com'è questa festa e che cosa ci dobbiamo aspettare. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, la festa sono tre giorni in Piazza del Popolo a Roma, una festa in cui parleremo degli italiani, parleremo dei nostri progetti per migliorare questa nazione, dei progetti di governo, ovviamente quando dieci anni fa siamo nati, pensavamo già a dare le soluzioni agli italiani, ma non avremmo mai pensato dopo dieci anni di essere il primo partito d'Italia e di avere davvero la responsabilità di guidare questa nazione, ma ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Don Zelli, intanto grazie davvero di essere intervenuto qui in diretta alla Rassegna Stampa di TV Prato, le volevo chiedere anche, c'è stato un momento in cui ha pensato in tutti questi dieci anni che invece la bottega avrebbe dovuto chiudere, che sarebbe stato un momento più difficile degli altri oppure è stata una crescita costante? No, che la bottega dovesse chiudere non l'abbiamo mai pensato, abbiamo fatto nascere fatale l'Italia proprio perché volevamo mettere in sicurezza una storia, la storia della destra italiana e quindi era l'esatto opposto, sapevamo che non doveva chiudere mai, abbiamo però tante volte temuto di diventare completamente marginali, di essere un po' come a volte ci sono, con tutto il rispetto però i partiti che si litigano la diaspora dell'ex democrazia cristiana, dell'ex partito socialista, diventare una cosa simile, l'abbiamo temuto tante volte, ma abbiamo sempre pensato che valesse la pena andare avanti e siamo riusciti a far crescere questa nostra storia proprio perché non abbiamo mai pensato soltanto a noi, ma abbiamo sempre pensato dare le soluzioni agli italiani. Certo, questo lo capisco perfettamente, le faccio un'ultima domanda, poi la congedo ringraziandola ancora per essere intervenuto, la domanda è questa, immagino che ormai abbiate preso un pochino le misure in queste settimane che sono passate da questo incarico che gli italiani vi hanno dato, anche consacrandovi come primo partito, lei pensa che questa è una luna di miele, come si dice, che durerà e che cosa si aspetta per i prossimi mesi, sono mesi duri comunque per l'economia italiana, per la situazione internazionale? Siamo arrivati al governo della nazione nel momento più difficile della storia degli ultimi decenni, ne siamo consapevoli, non abbiamo avuto paura, non abbiamo fatto un passo indietro, non abbiamo messo davanti dei tecnici per nasconderci dietro e prendere benefici della politica senza prendersi le responsabilità, però certamente è dura, lo sappiamo, ma le somme non le dobbiamo tirare fra qualche mese, le somme le tireremo fra 5 anni e faremo il bilancio dei primi 5 anni, l'Italia deve essere cambiata profondamente, non bastano dei tweet o dei post su Facebook, consapevoli di questo stiamo lavorando tanto e i risultati arriveranno per gli italiani. Buona festa e buon lavoro, ci torna a trovare quando viene qui a Prato? Volentieri, volentierissimo. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie davvero all'onorevole Giovanni Donzelli anche per questa veloce chiamata che ci ha potuto raccontare che cosa c'è nel futuro del partito che in questo momento guida il Paese. Andiamo ancora avanti per concludere sulle prime pagine dei giornali, vi faccio vedere anche velocemente le ultime due notizie che volevo mostrarvi, innanzitutto il Corriere della Sera che apre ovviamente sulla maxitangente e la quantifica come dicevo 1,5 milioni di Euro, il caso Catara deposta l'ex Vicepresidente, il suo compagno parla per ore con gli investigatori, la Polizia rivela l'ammontare dei soldi trovati nelle case di Caili e Panzeri, quindi sono i due europarlamentari, la prima ex europarlamentare e il secondo che sarebbero stati finanziati principalmente dal Catar, ma l'inchiesta promette di allargarsi, è molto interessante anche questo articolo sui volti e gli intrecci di Marco Imarisio, il consigliere misterioso, anche questo consiglio fortemente la lettura e guardiamo anche per concludere che cosa appunto viene fuori dall'interno del Corriere della Sera su questa vicenda, innanzitutto una foto che vi mostro, sono le banconote trovate dalla Polizia federale belga appunto nell'ambito dell'inchiesta e insomma si vede che questi soldi nei sacchi non sono pochi, insomma anche la foto fa percepire l'ammontare effettivo di queste tangenti, perché questo sono ancora sempre sul Corriere della Sera di oggi, si parla di nuove perquisizioni, sigilli e spunta anche un consigliere pro Iran, tutti i nomi che portano a Panzeri e per concludere invece vi faccio vedere prima di passare allo sport la sfida elettorale all'interno del Partito Democratico, per par condicio, ne parliamo spesso, abbiamo parlato con Giovanni Donzelli, parliamo anche di quello che sarebbe il principale partito di opposizione, ma insomma se la combatte con il Movimento 5 Stelle, così si schierano le correnti del Partito Democratico, l'incontro Schlein, Landini, vediamo le posizioni delle correnti, la candidata Paola De Micheli che alla segreteria è un po' solitaria in questo momento, non gode dell'appoggio ufficiale delle correnti di nessuna corrente, ma invece ci sono i due principali contendenti, quelli che paiono esserlo quantomeno per i sondaggi, Stefano Bonaccini lo vedete appunto sulla destra in verde con Dario Nardella, il Sindaco di Firenze, Lorenzo Guerini, Matteo Orfini, Giorgio Gori e Pina Picerno, invece sulla sinistra vedete anche in una indicazione geografica della politica colorata di rosso le correnti che appoggerebbero Schlein in questo articolo di Maria Teresa Meli, Giuseppe Provenzano, Dario Franceschini e Matteo Lepore assieme a Michela De Biase e al giovane Brando Benifei, ancora per concludere vi faccio vedere questa notizia in tutte le prime pagine dei giornali, c'è la fotonotizia di Lionel Messi, il talento fantastico dell'Argentina, tra l'altro citando Masi che col gioco è fatto ha sdoganato questo paragone più volte, mi corre l'obbligo e mi viene facile salutare anche il Messi della regia Paolo Innocenti che oggi coordina le operazioni e allo stesso modo anche per sempre sottolineare quanto sia importante la parte tecnica, Jacopo Richiusa qui in studio. Messi porta l'Argentina in semifinale, veramente un crack, assomiglia sempre di più all'idolo di tutti, ovvero Diego Armando Maradona e ce lo racconta la Gazzetta dello Sport perché il titolo è proprio questo, Mara Messi, Leo Comediego, gol e magie Argentina in finale, il 10 dell'Albi Celeste trascina i suoi, niente da fare per la Croazia che ieri è stata sconfitta a punto 3 a 0, la Pulce che è il soprannome di Messi segna l'1 a 0 su rigore e poi fa anche un assist bellissimo, siamo carichi, mi diverto e lancia il Varec che fa una doppietta, insomma Messi con quell'assist rocambolesco fantastico, bellissimo da vedere, diventa anche il giocatore che nella storia ha fatto più assist a un mondiale, 9 per la precisione superando proprio l'idolo argentino Diego Armando Maradona. Ebbene è arrivato il momento dopo questa lunga parentesi sui giornali di affrontare tutti i temi della giornata e dell'anno che verrà con l'ospite, lo facciamo subito dopo lo spot. Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56 Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonoscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica, alto campo, 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Prato All'Arme, siamo da 30 anni al vostro servizio. presenti su tutto il territorio e reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato All'Arme, sicuro e meglio. Siamo a Prato, in via Curtatone 16, telefono 0574 25965. Restaurare il tuo condominio o sostituire la caldaia. È semplice. Montebianco Costruzioni. Montebianco Costruzioni applica direttamente in fattura il bonus facciata e il bonus caldaia. Per un preventivo gratuito, contatta Montebianco Costruzioni a Montemurlo. Montebianco Costruzioni.com, offerta valida per i condomini. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro. Parcheggio del Serraglio. 400 posti al coperto. Moderno e sicuro. Per auto, moto e bici. Tariffa giornaliera a 6 euro. Tariffa notturna a 1 euro. Aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio. Il tuo parcheggio in centro. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi. Comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Buongiorno, bentornati ancora una volta alla seconda parte di Prima di Tutto. Come vi ho anticipato, abbiamo il piacere di confrontarci ancora sul mondo dell'impresa, del lavoro, sul cuore pulsante di questo territorio, ma non solo. Quindi è un piacere per me farlo oggi con Margherita Cerretelli. Ancora una volta buongiorno. Buongiorno e grazie mille per l'invito. È un piacere, perché poi abbiamo capito nel tempo che è giusto affrontare i temi guardandoli da diversi lati, forse i lati più interessanti, per tutto ciò che la qualifica, l'essere donna, l'essere giovane, sono proprio quelli che ci può rappresentare lei. Io partirei proprio da una notizia che prima stavo leggendo su una nazione, in questo caso di Prato, ovvero sui finanziamenti per il caro energia, che è caratterizzato da questo accordo fra Confindustria Toscana Nord, di cui lei rappresenta i giovani imprenditori, e il Banco BPM. Leggo qualche riga anche per riportare coloro che ci ascoltano su questa vicenda. In particolare, Banco BPM con questo accordo si impegna a sostenere le imprese associate con una serie di prodotti, linee di credito e servizi ad hoc per agevolare l'accesso al credito attraverso l'assistenza e la consulenza di un team di specialisti. Due plafond di un valore totale di 130 milioni di euro. In particolare saranno a disposizione i plafond energie efficienti, pari a 50 milioni di euro, dedicati alle imprese impegnate nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, tra cui quelli legati alla transizione energetica. Senta, proprio lei che per l'appunto in questo caso viene chiamata in causa come imprenditrice e come giovane imprenditrice, le chiedo subito questo. È davvero così importante guardare alla sostenibilità oppure una moda? No, assolutamente è importante la sostenibilità, ormai è un must, sebbene appunto spesso sembra assurgere un po' a moda, ma è importante non solo la sostenibilità ambientale, ma anche la sostenibilità sociale a tutto sondo. Le imprese che guardano al futuro hanno questo orizzonte, anche le imprese guidate da giovani, glielo chiedo insomma ovviamente per il ruolo che ha. Certo, devono avere questo orizzonte assolutamente. E tra i suoi associati vede che c'è qualcuno che invece resta indietro su questo senza fare nomi? No, allora direi proprio di no, è chiaro, magari può essere a volte difficile nelle imprese dove c'è un passaggio generazionale in atto, a volte può esserci uno scontro generazionale forse con chi ha più anni di noi, e quindi magari è più restio nell'intraprendere determinate innovazioni di prodotto di processo, ma comunque c'è questa profensione ad innovare. È interessante quello che stava dicendo, perché poi l'altra volta, la volta che fu ospite qui, lei ci raccontò anche di come i giovani negli ultimi dieci anni fossero sempre meno alla guida delle imprese, del calo significativo, ricordo che lei ci raccontò di questo dato. Ecco, però Prato è ovviamente un polo industriale il più importante della Toscana, diciamolo, anche come numeri, c'è ancora questa questione sul banco, quella del cambio generazionale, ci sono delle figure che aiutano a fare questo cambio, è difficile oppure no? Sì, è difficile, è un tema di cui spesso parliamo anche insieme agli altri ragazzi del gruppo, assolutamente, e purtroppo i dati di cui parlavamo l'altra volta non sono molto migliorati, infatti secondo le elaborazioni del nostro centro studi, al 22 novembre 2022, Prato per esempio ha solo 5 start-up innovative giovanili, e la Toscana è solo ottava nella classifica regionale per numero di start-up innovative, quindi ecco, è vero che è passato poco tempo rispetto all'altra volta, però il quadro non è ancora migliorato. Non è Rosio, ha ragione, e tra l'altro proprio nel sole 24 ore della classifica annuale uno degli indicatori che penalizza maggiormente, la città di Prato è proprio questo, la mancanza di start-up giovanili, o comunque ce ne sono meno addirittura che nelle altre province della Toscana, sembra incredibile, perché poi in realtà… Esatto, i tassi di imprenditorialità sono storicamente elevati. Sono storicamente molto elevati. Senta, lei, Ciaratelli, cita sempre un sacco di dati, questa cosa, devo dire, mi fa piacere. Sì, mi piace molto, deve essere puntuale. Non solo i giornalisti, evidentemente, prima parlavamo dell'importanza dell'analisi, è importante per voi partire dai numeri, oppure c'è anche, come dire, un sentire dell'impresa, cosa è più importante? Ma io penso che sicuramente i numeri ci aiutino ad avvalorare quello che sosteniamo, quindi o abbiamo anche la fortuna di poter contare su un centro studi che ci supporta costantemente con dei dati, quindi… E questo le volevo chiedere, quanto è importante avere un centro studi che, diciamo così, riesce anche a fornire dei dati freschi, perché poi forse il problema principale è questo, che uno si fonda sempre sui dati vecchi e l'impresa cambia in una maniera velocissima. Assolutamente, è una fotografia del momento, però comunque questi dati, anche se statici, inquadrati nel tempo, danno un'idea del dinamismo che connota le nostre imprese. A proposito di fotografie, ho notato dalla sua attività, che possiamo seguire anche sui social, che si è occupata molto di un tema di cui abbiamo parlato spessissimo, ovvero delle grandi dimissioni, di come si comporta il mondo del lavoro rispetto al mondo dell'impresa, che è datoriale rispetto al mondo del lavoro. Quindi c'è anche da parte vostra un interrogarsi, no? Su come, insomma, affrontare questo tema. Questa fotografia, adesso non la voglio… Insomma, questa fotografia che lei diceva prima è cambiata molto velocemente rispetto al passato, è un fenomeno degli ultimi mesi, anni. È un fenomeno, sì, che si è scatenato principalmente con il Covid. Basti pensare, tornando ai numeri, che dal 2021 in Toscana 160.000 lavoratori si sono licenziati, di questi il 28% sono giovani. E questo trend… Uno su tre. Esatto. Questo trend poi è proseguito anche nel 2022, infatti nel primo trimestre le dimissioni sono aumentate del 54%, e questa percentuale, se consideriamo i giovani, fino a 29 anni, sale all'80%, quindi davvero una percentuale eclatante. E sicuramente il Covid è stata la causa principale, perché in seguito un po' all'attenuarsi della pandemia c'è stato un rimbalzo del mercato del lavoro post congelamento Covid. E anche la diffusione dello smart working ha reso possibile instaurare rapporti di lavoro su lunga distanza, senza cambiare residenza, e quindi di fatto ampliando l'ambito spaziale del lavoro. Ovviamente esistono anche ragioni di natura socio-culturale, come la ricerca di un migliore equilibrio tra vita privata e lavorativa, valle proprio dell'esperienza dello smart working, ma anche una maggiore disponibilità a rischiare proprio in relazione all'incertezza delle carriere rese evidente dallo tsunami che è stato il Covid. Sono numeri impressionanti quelli che ci stai dicendo. Assolutamente. Come reagite voi, voi imprenditori? Cercate di creare delle condizioni diverse? Questo mi interessa molto. Oppure cercate di ritornare in quell'albio che era precedente al Covid? Ma allora ci siamo molto interrogati insieme agli altri ragazzi del gruppo su questo tema. E diciamo che non abbiamo una soluzione in mano, anche perché gli imprenditori già si trovano ad affrontare l'ormai noto problema del mismatch tra domande e offerte di lavoro. Noto e molto pesante in Toscana, tra l'altro. Esatto, e questo problema è acuito anche dal profilo demografico e sta emergendo. Infatti, secondo i dati Istat, nel 2022 è cresciuta ulteriormente la popolazione over 65, mentre sono diminuiti gli individui in età attiva tra i 15 e i 64 anni. Tant'è che nel 2032-33, secondo le previsioni dell'Istituto, l'Italia avrà 1.400.000 studenti in meno. Nel 2048 le morti doppieranno le nascite. Nel 2050, se continuiamo così, il rapporto giovani-anziani sarà di 1 a 3. Quindi davvero un potenziale quadro di risi. E in una situazione del genere è ovvio che per gli imprenditori l'attrazione e la retention dei talenti diventa un fantôr competitivo ancora più vincente. Poi è chiaro che a livello di sistema e locale bisogna sapere indirizzare le scelte di formazione e di istruzione nei campi decisivi per le imprese e anche spostare le risorse da politiche passive a politiche attive per il mercato del lavoro. Certo. Forse è anche una questione geografica. Anche voi dovete guardare un po' fuori dalle vostre province? Ma questo è un problema che si riscontra un po' in tutta Italia, sulla scia anche di quanto è avvenuto negli Stati Uniti, in primis e poi in Europa. Infatti considerando l'Italia nella sua interezza, dal 2021 oltre 2 milioni e mezzo di persone si sono licenziate. Quindi diciamo che è un problema che connota un po' tutte le regioni. Certo, e rischia anche di mandare un po' in crisi le aziende, diciamolo sinceramente. Assolutamente sì. Senza personale, senza lavoratori si fa poco. Assolutamente sì, sono la risorsa principale. Il punto culturale di cui lei parlava prima è un punto che si può risolvere in qualche modo con nuove offerte o nuovi sistemi organizzativi delle aziende? Oppure lei insomma... Ma allora, sicuramente si può attenuare, è chiaro che richiede un cambiamento che non può essere posto in essere nel breve termine. Eppure è repentino questo cambiamento culturale che c'è stato, le dimissioni sono un atto istantaneo. È vero, è vero. Sì, sembra quasi proprio che Covid abbia fatto da dei suonatori, assolutamente. Veramente incredibile. Senta, parliamo del gender gap, un minuto se ne va. Assolutamente. Lei è presidente, donna dei giovani imprenditori. Quanti siete nella vostra squadra di presidenza? Donne e uomini, che rapporto c'è? Allora, noi stiamo, compresa me sei, ci sono io presidente, poi abbiamo un'altra vicepresidente e poi sono tutti uomini. Uno su tre. Esatto. Più o meno come succede, diciamo, nella organizzazione generale, insomma, in Confindustria. Forse anche qualcosa di più, siete anche più... Forse qualcosa di più rispetto alla media. Sì, sì, sì. E questo è un processo di trasformazione anche nell'impresa, alla guida delle imprese, oppure, secondo lei, anche qui si fa fatica a vedere l'alba di una parità? Si fa un po' fatica, si fa un po' fatica, anche se, devo dire, parliamo anche degli aspetti positivi, nel G20 l'Italia è quinta per empowerment femminile, grazie soprattutto alla legge che impone che il 40% dei bordi e delle quotate sia costituito da donne. Lei è d'accordo? Allora, io non sono molto d'accordo sulle quote rosa. È chiaro che quando però arriviamo a stabilire quote rosa, vuol dire che la situazione è veramente grave. Quindi, secondo me, le persone devono essere premiate per il loro talento, a prescindere dal genere, ecco, però è ovvio che magari in situazioni del genere non ci sia alternativa. Ed è ovvio che la cultura patriarcale non genera spesso la premialità per le donne. Lei si è mai sentita trattata peggio? Le faccio una domanda personale, perché donna, anche in un ruolo di responsabilità, come lei, sia nella sua impresa che a livello associativo, si è sentita a volte? Allora, no, sinceramente non mi è mai capitato né in azienda né nell'associazione. È chiaro che spesso, ecco, si sentono discorsi all'esterno, magari che si interrogano più sulla possibilità che una donna riesca a conciliare poi lavoro e famiglia, qualora decida anche di avere dei figli. C'è più sfiducia rispetto a un suo percorso. Lei ha mai fatto dei colloqui di lavoro a persone che si occupano anche di questo in azienda? Allora, è capitato a volte di assistere a dei colloqui di lavoro, però ecco, devo dire che nella mia azienda, a cominciare da mio padre, assolutamente non è mai stata fatta la lastica domanda, ma ha intenzione di fare dei figli, assolutamente. Su questo non avevamo alcun dubbio, ci mancherebbe altro? No, no, ma non volevo esistere su questo, però volevo capire se anche lei avesse percepito durante i colloqui o durante, insomma, o se sa, se ha saputo che in altre aziende, o magari è dovuta intervenire con qualche amico imprenditore, dicendogli, ma perché non assumi più donne? Perché, insomma... No, magari mi è capitato prima, ecco, di entrare nell'azienda di famiglia, di fare altre esperienze lavorative, altri colloqui, e ti viene fatta la domanda, come ti vedi tra dieci anni, nasconde un po', no? Sì, sì. La domanda, ma ha intenzione di fare dei figli, in modo carino per... Terribile, terribile. Terribile, terribile. Terribile, condanniamo assolutamente tutto questo, nel senso che, insomma, è ovvio che va nella direzione opposta della cultura che vorremmo promuovere. Assolutamente. Eh, vabbè, insomma, lei è una portatrice sana di questo verbo, lo sappiamo bene, insomma, in queste due volte ce l'ha mostrato, anche che è stata ospita di noi. Senta, le volevo chiedere, però, tornando alla tecnica, una cosa importante, mi piace sapere da lei che una giovane imprenditrice come vede l'anno che verrà, oggi, se citiamo Lucio Dalla, insomma, visto che siamo vicini al capodanno, e come vede anche, se riesce a darmi anche un'impressione rispetto a quelli che sono i suoi colloqui in associazione, i prossimi dieci anni, perché è giusto che sia un giovane imprenditore, una giovane imprenditrice in questo caso, a dire qual è, diciamo così, la rotta e il sentiment sul futuro. Cioè, che cosa si aspetta un giovane imprenditore da quello che sta per succedere immediatamente dopo questo mese, ma soprattutto per i prossimi dieci anni? Certo. Allora, diciamo che i dati ad oggi, sul terzo trimestre del 2022, sono positivi, sempre parlando delle elaborazioni del centro studio di Confindustria, la nostra area, Luca Pistoria Prato, è registrato in termini di produzione manifatturiera, un più 2,5%, a fronte di un dato italiano pari al meno 0,6%, quindi diciamo che ad ora i risultati rispetto al terzo trimestre del 2021 sono positivi. Il sentiment che ho io, che abbiamo come gruppo, però purtroppo sul futuro ad ora non è molto positivo e entrano in ballo in questo senso le tensioni sul fronte geopolitico, il caro energia, l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione, è anche vero però che speriamo che questa situazione, in un orizzonte temporale più lungo, come quello di dieci anni, vada a migliorare, ecco perché o ci fermiamo oppure dobbiamo attingere all'innata capacità di resilienza che le imprese del nostro territorio hanno per poter proseguire. Che per oggi è stata sperimentata molto in questi anni, diciamola dire. Direi che le nostre imprese sono state sottoposte a uno stress. Dopo un po' si stancano anche i resilienti, nel senso che la coperta è abbastanza corta, certo il rimbalzo che potrebbe esserci nei prossimi dieci anni, visto che tutti ci auguriamo ovviamente, ci auguriamo che questo, come ha detto lei, sia solamente un periodo di crisi limitato. Può conoscere, secondo lei, proprio il territorio pratese, pistoiese e lucchese un nuovo periodo di grande locomotiva, come l'è stato nel passato, sia per la regione che per la nazione? Ma io sono comunque fiduciosa e penso che dopo un periodo negativo, come quello che abbiamo vissuto con il Covid e poi con la pandemia, le cose possano migliorare. Anche la stessa Prato, rispetto ad aree con caratteristiche simili dell'Italia, ha una notevole capacità di risollevarsi. Quindi grazie anche e soprattutto alle performance del sistema moda, del testile. E' ancora il testile il cuore pulsante di Prato? E' ancora il testile, sì. L'aumento del 4,8% che ha registrato Prato in termini di produzione manifatturiera è stato trainato soprattutto dal testile. Poi la nostra zona, Lucca Pistoria Prato, sta registrando anche dei buoni risultati in termini di esportazioni. Siamo tornati ai livelli del 2019 in linea con il dato italiano, ma più della media toscana che si attesta attorno al 10%. Quindi dai, voglio essere fiduciosa. Siamo contenti che lo sia, anche perché se è fiduciosa lei, se sono fiduciose le aziende, hanno più fiducia anche i lavoratori. Assolutamente. E' tutto un sistema. E vogliamo ricordare anche le performance sull'export della carta, insomma che sta andando molto bene e diciamo anche i segnali di ripresa del vivaismo pistoiese. non vogliamo essere distrettuali, strettamente distrettuali. È vero, è vero. Certelli, io la ringrazio tantissimo. Grazie a lei, grazie mille per l'invifo, è stato un piacere. No, è un piacere per noi perché come tutti quanti avete sentito, è bello poter sentire un giovane, una giovane in questo caso, che diciamo così affronta anche le questioni partendo dai dati. La ringrazio anche per la sua grande competenza e ovviamente la rinvito magari a confrontarsi sul fenomeno delle grandi dimissioni nei prossimi mesi con qualche esperto perché vorrei approfondire veramente l'evoluzione di questo fenomeno perché è in corso, diciamolo. In corso non si può negare, quindi dobbiamo farci conto. Dobbiamo capire anche come si sviluppa, se ci sarà un ritorno, diciamo così, anche a antiche culture rispetto al modo di porsi al lavoro oppure se ci sarà un'evoluzione che deve vedere cambiare i lavoratori e le imprese insieme, ma oggi già abbiamo affrontato il discorso con i numeri e con il parere di Ceretellica. Ringrazio un'ultima volta, ringrazio anche a voi telespettatori e ascoltatori del podcast e ci vediamo domani mattina con Prima di Tutto. Questo programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato Scopri i vantaggi di essere socio NigroCostruzioni Creiamo spazi Costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it